La presidente della provincia, Zaccariotto, ha risposto alle polemiche sulla sua decisione di aumentarsi lo stipendio illustrando tutte le spese sostenute dalla precedente giunta. L'incontro in sede a Venezia. Francesca Zaccariotto all'attacco. Oggi a Cacorner la presidente della provincia ha risposto agli avversari politici sulla questione del suo aumento di stipendio ritenuto non necessario. Lo ha fatto a Prendo Armadi, a suo parere pieni di scheletri, quelli della giunta che l'ha preceduta dal 2007 ai primi sei mesi del 2009 che avrebbe usato i fondi pubblici in rimborsi per la ristorazione, per la comunicazione e i regali alle famiglie dei dipendenti durante le festività natalizie. Sono stata chiamata in causa più volte da parte dell'opposizione relativamente all'utilizzo corretto o meno di quello che è il denaro pubblico alla luce soprattutto di un momento delicato. Questa amministrazione e la sottoscritta non ha mai presentato nessun scontrino di rimborso delle spese e quindi significa che se io mi permetto di offrire un caffè non presento poi uno scontrino come invece è sempre avvenuto per abitudine nell'amministrazione precedente. La Zaccariotto ha anche chiarito delle questioni relative ai soldi spesi per la sua giunta. Per quanto riguarda la ristrutturazione abbiamo fatto vedere quelli che sono gli atti e quindi quelle che sono le dichiarazioni del settore dell'edilizia e quindi del patrimonio dove non esiste nessunissima spesa che è stata sostenuta da parte di questa amministrazione che non è una richiesta che era stata fatta di installare un angolo cottura perché è un appartamento che era stato fatto dalla precedente amministrazione quando ha ristrutturato il palazzo che era utilizzato più come garçonnier che non come luogo dove usare dopo un certo numero di ore.